Vediamo, non parlo lingue straniere e quindi via, e non posso più neanche citare Kennedy ormai. Non è vero, Ryan? Sapete, è strano, avevo preparato un discorso e l'ho provato per settimane, ma sapete una cosa? Vado avanti, non moro. Tempra morale. Allora, che cos'è la tempra morale? Vedete, è buffo, una volta pensavo che fosse dire sempre la verità, compiere buone azioni. Insomma, in pratica essere un fottuto boy scout. Ma ultimamente ho cambiato idea. Ora credo che la tempra morale sia trovare una sola cosa di cui ti importa davvero. Quella cosa che per te significa più di qualsiasi altra cosa del mondo. E quando la trovi, combattere di essere, rischiare tutto, anteporla a tutto il resto, il tuo futuro, la tua vita, tutto quanto. E magari le cose che farei per ottenerla non saranno troppo pulite. Ma questa non è importanza. Perché nel profondo sai che in gioco vale la candela. Questa è la tempra morale, secondo me. Per cercare. E anche se è la tempra morale, come dire, però, e questa protetta Bibliossi è stata lei? Questa è la tempra morale? Per cercare.